cari amici del calcione siamo qui con jacopo brambillasca autore di una doppietta che lievassa la qualificazione alle semifinali jacopo una partita giocata fino all'ultimo con risultato sbloccato secchiata da stardo con risultato sbloccato solo verso la fine cosa vi ha impedito di non concludere subito ce la siamo sudata più di quello che pensavamo bisogna fare i complimenti alla loro squadra di idrotecna che quest'anno hanno fatto un gran calcione e alla fine vabbè la nostra qualità è venuta fuori grazie soprattutto al presidente rimoldi che ha costruito una squadra solida e fondata bene cosa vi aspettate da queste semifinali ormai imminenti adesso cerchiamo di capire contro chi giocheremo dato che siamo passati come primi e poi cerchiamo di fare il meglio purtroppo non avere non avremo il portiere che ci sarà perché arriva andare a fare una gara e dima si sostituirà lui e pregheremo in bene bene grazie jacopo grazie a voi anche per stasera questo è sempre il calcione 2019 questo è il calcione 2021